Che cosa dite in questo vostro libro? Che cosa avete raccolto come testimonianze? Si raccontano diverse sfaccettature di questo problema, diciamo dal lato quello più di comunicazione istituzionale, da quello di informazione di prima mano, resoconti di prima mano di operatori della comunicazione istituzionali e non, e poi anche del giornalismo. Si fa un po' un'analisi di quello che è la situazione attuale e si conclude che si può fare ancora molto meglio. Come fare molto meglio? Io mi dirigerei piuttosto ai gruppi dirigenziali nazionali, ai politici nazionali e alle televisioni e ai media nazionali per dare più spazio, qualcosa che di fatto non è più politica esterna ma è politica interna e interessa tutti i cittadini perché di fatto ormai l'80% di quelle cose che si decidono a 27% ricadono su tutti noi.